La Wallcore area JP Morgan, nuova proprietaria della Pernigotti, ha confermato ieri di nutrire grande fiducia sul futuro della storica azienda novese. Il piano aziendale è stato presentato nell'incontro che si è tenuto ieri tra dirigenti e sindacati. Il risultato è andato ben oltre le aspettative. Basta guardare i fatti. Dal lunedì è già ripresa la produzione dei gianduiotti. La prossima iniziativa sarà quella di ritornare alla produzione dei gelati ed in futuro si produrranno i classici toroncini natalizi. Per ritornare alla produzione piena tra l'altro è stato annunciato che non ci sarà più cassa integrazione. Questo creava fino a ieri qualche agitazione tra i lavoratori e i sindacati perché stava per scadere a giugno. Dopo le dichiarazioni della D, dell'amministratore delegato Attilio Capuano, è stato compreso che il futuro aziendale è basato sulla piena occupazione dei dipendenti. Stop quindi alla cassa integrazione. Ci troviamo davanti a un vero e proprio cambio di passo, inimmaginabile fino a un paio d'anni fa. Un nuovo inizio per la Pernigotti. Prezioso poi è il supporto della Walker, l'azienda di Cremona che fa parte dell'area JP Morgan e che ha ripreso gli storici commerciali e i direttori vendite che erano cresciuti in Pernigotti e che stanno riallacciando i rapporti con la grande distribuzione. Le catene dei supermercati che ultimamente invece non avevano ricevuto i prodotti Pernigotti e quindi dopo una serie di mancate consegne da parte della precedente gestione avevano riempito gli scaffali con altri differenti prodotti. Adesso le vendite di Pasqua hanno dato un primo buon segnale e addirittura quindi l'azienda pensa alla costruzione di un nuovo stabilimento più grande e sembra noviligue per ospitare tutte le novità delle produzioni su cui vuol puntare, ad esempio le creme al cioccolato spalmabili anche per conquistare il segmento più giovane della popolazione.